Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, sono Lorenzo e stiamo per entrare in Geometry Dash Parto dal presupposto che c'è un po' di... ...se la madonna di merda di influenza virale che sta girando in questo momento Quindi non sono al 99,9 di forze di tutti i giorni Però...proverò a fare questo video Iniziamo subito... ...a giocare Quanto l'odio Perché? Allora Perché ragga tutto? Perché ragga tutto? Scusate i colpi di tosse Io sono imbranato Ok Perché non salta quando deve saltare? Ah... 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 Forse l'ottava vita riuscirò Ma vattene a cagare Va bene, ok, cambiamo gioco perché questo allarga tutto Bene, andiamo su... ...un gioco color a frecce Non so che roba sia Gioco.it Se l'avventura ti piace iscriviti subito al canale E lascia tanti bei poliziani Ma che bella musica emozionante Perchè laggi? Perchè? 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 Perchè schippa tutto su sto computer in tavolo? Perchè? Perchè schippa tutto? Perchè me schippa? Perchè schippa tutto? Perchè schippa tutto? Giaccaro musica Perchè? A culo Sto cascando a culo Non me lo chiedete Perché laca tutto? Tutto vizzerato questo gioco Perché mi consigliate questi giochi assurdi Giochi passati Che soltanto voi potete fare Ma però siamo a 81 Poi c'è l'altro Che colore Perché? Ora! Oh! 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 Ok, perché la di tutto, perché, io, cosa ce la faccio? Superare lo strumento di giustacolo, due, culo, 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 culo della madonna, ce l'abbiamo fatta, non vi arrete, non ti ammettere, ma bene, terminiamo, guarda, 191, e tanti per polluzioni su, terminiamo qui e andiamo a faccare questo bel gioco, sempre, gioco di palle si intende, perché noi, ci abbiamo sempre sul gioco puntuita vediamo se non lappa se lo schifo pure questo sta caricando sta caricando ok come funziona no play aspetta che succede no 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 scemo ma sono scemo è scemo ma perché cosa siamo basta basta mi sono rotto va bene concludiamo qui il nostro gioco è finito grazie ed è la mia torse e da lorenzo è tutto ci risentiamo già a presto perché